Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo alla sesta, sì sesta, mi ero quasi dimenticato, puntata del GF2 Daniele Danzu. Siamo alle battute tra virgolette finali perché stiamo arrivando piano piano a decretare i finalisti. Questa nomination è stata un po' sofferta perché comunque ci sono due personaggi molto molto particolari, anche molto bellini secondo me. Qui siamo nella Casa Bianca, come vedete ci sono Darren, Jasmine, Valentina, Leila e Enrico. Leila ed Enrico ormai possiamo dire che sono quasi una vera e propria coppia. È scoppiato un incendio, come potete vedere, ma sono riuscito a salvare tutti e voi vi chiederete dov'è Otto. Otto è nella stanza bianca insieme ad Alex Wilson che ha raggiunto questa casa. Loro due sono i due nominati di questa settimana e quindi ora andremo a vedere chi voi, con una votazione che è durata veramente, c'è più di 20 giorni perché c'è stata la pausa e c'è stato un solo day time, anche se un po' più lungo rispetto agli altri. Vediamo chi avete eliminato. Tra l'altro Otto e Alex, tra di loro, sono molto amici, come potete vedere dalla barra, appunto. Quindi è una nomination sofferta proprio tra di loro. Forse questa loro amicizia li ha portati ad essere un po' più distanti dal gruppo, oltre al fatto che Otto è fidanzato con... cioè è fidanzato con Alicia, quindi l'aveva un po' distaccato dal gruppo. La percentuale è molto alta. Voi avete votato per l'eliminato, sicuramente un uomo, lo possiamo dire, che è col 78% dei voti contro il 22% dei voti, quindi una valanga di voti per l'eliminato di questa sera. E niente proprio di meno che, purtroppo, il nostro Otto di 10, avrei detto purtroppo anche se fosse stato Alex Wilson, perché a me piacciono veramente tutti i personaggi di questa edizione e sono uno più bello degli altri, Otto purtroppo lascia la casa, quindi avete deciso di eliminare lui. D'altronde, un po', devo essere sincero, me lo aspettavo, perché Otto si era concentrato davvero troppo su Alicia Taylor, quindi sul suo fidanzamento. Quindi era abbastanza, diciamo, scontato che in una nomination uno contro uno fosse eliminato. Vediamo la sua uscita. Eccolo qui. Come potete vedere, esce dalla casa il nostro Otto di 10. Ora Alex Wilson ovviamente verrà riportato nella casa dove è stato tutta la settimana, ovvero nella casa principale, e succederà una cosa altrettanto importante. Qui c'era un desiderio per con Otto, diventa amico di Otto, siete già amici. Quindi io ora vado nella casa principale e vediamo cosa succede oltre questa eliminazione. Eccoci tornati nella casa, appunto, principale. Come potete vedere, in soggiorno ci sono i cinque ragazzi, Vincenzo Galli, David Black, Aya Hiti, Clarissa Bianchi e Danny Brown, che aspettano il ritorno, oppure la notizia che Alex sia stato eliminato. Ma Alex non è stato eliminato, infatti lo facciamo venire qui, lo facciamo entrare di nuovo in casa. Eccolo qui che in tutta la sua... è un po' pavoneggiante, devo essere sincero. Entra in casa, si fa vedere dei ragazzi, ma la produzione lo blocca subito, perché, come voi sapete, questa settimana non c'è stato il voto per il preferito. Questo perché? Perché ovviamente non mi sembrava giusto che, dato ci fosse stata una grandissima pausa, di mettere il voto del preferito, quando comunque avremmo solo avuto i voti dei creatori verso i loro beniamini. E quindi avevo deciso di non, appunto, mettere questo televoto, anche perché avevamo in nomination due persone di case opposte, quindi usciva uno, usciva l'altro, l'altro sarebbe stato, tra virgolette, il vincitore della nomination. Danny Brown si sta pisciando addosso, tra l'altro, ma perché questo? Alex Wilson può raggiungere tranquillamente la, diciamo, la sala delle decisioni, perché lui sarà colui che farà partire la reazione a catena in questa casa, in quanto ci sarà un'eliminazione anche in questa casa, ragazzi. Quindi una doppia e seconda eliminazione. Ovviamente qui ci sono tre concorrenti doppi, quindi dovessero essere gli ultimi scelti, sarebbero coloro che vengono eliminati. Quindi se dovesse essere, faccio un esempio, David Black, anche Jasmine, dall'altra parte, dovrebbe lasciare la casa. Se invece dovessero essere Hayaditi o Clarissa, a quel punto non ci sarebbe, diciamo, probleme, perché sarebbero, appunto, concorrenti singoli. Andiamo, appunto, da Alex Wilson e vediamo chi salva. Oggi è una puntata molto importante, capirete perché. Allora, come potete vedere, sicuramente non salva Vincenzo, non salva le due ragazze, ma salva David Black, quindi anche Jasmine, dall'altra parte, è assolutamente salva. Allora, portiamolo qui, il nostro David Black, e sarà colui che darà voce ad una nuova reazione a catena. Si sono vestiti anche un po' uguali. Vediamo David chi salva fra i ragazzi in casa. Sicuramente, senza ombra di dubbio, Hayaditi. Subito dopo avrebbe salvato Danny, però con Hay c'è davvero una bella amicizia. Quindi Hayaditi è salva dalla seconda eliminazione. L'ultima concorrente entrata è insieme al concorrente doppio di Vincenzo Galli e Valentina Colombo. Hayaditi raggiunge la sala delle decisioni. Ne mancano tre ancora, quindi vediamo un attimo chi salva Hayaditi. Beh, sicuramente senza ombra, anche se lei è molto amica di tutti, tranne che di Alex, sicuramente salva Danny Brown, che è il suo, praticamente, buoni amici, il suo migliore amico all'interno della casa. Quindi, Danny, dove sei? Oddio, sei l'ultimo, sei questo qui, che si siede qui. Quindi, la seconda eliminazione è fra Clarissa Bianchi, da voi anche abbastanza amata, e Vincenzo Galli con Valentina Colombo. Ovviamente, come potete vedere, lui è Danny Brown, è molto amico di entrambi, ma effettivamente salva senza conoscenti e amicizia, salva senza ombra di dubbio Vincenzo Galli. Quindi, Vincenzo può raggiungere, tra l'altro sta andando in bagno, anche tu devi andare in bagno, quindi puoi andare tranquillamente. Quindi, la seconda eliminata di questa sera, quindi viene eliminata del tutto, e mi dispiace tantissimo, perché lei è stata veramente un bel personaggio all'interno di questa edizione. Tra l'altro aveva avuto quel flirt con Leila Brown, che mi sarebbe piaciuto continuarlo, ma niente, Clarissa Bianchi è la seconda eliminata di GF2 Daniele Danzu, alla sesta puntata. Tra l'altro, se non erro, nella scorsa edizione la sesta puntata fu l'ultima, quindi, voglio dire, vediamo l'uscita di Clarissa, che esce dalla casa, ecco qui, che prende la porta rossa e abbandona la casa del GF. Ecco qui. E salutiamo anche la nostra Clarissa. Ciao, allora, eccoci di nuovo, siamo nella casa bianca, i ragazzi hanno saputo dell'eliminazione, appunto, di Clarissa Bianchi, e ora si inizia con le nomination, e vi dico anche che sono le ultime nomination. Allora, queste nomination saranno un po' particolari, perché, ecco, in tutto ci sono sette concorrenti, sette concorrenti divisi nelle varie case, ovvero ci sono due concorrenti singoli per ogni casa, che in questo caso sono Enrico Marcelli e Darren Badaw, mentre nell'altra casa sono Hayaditi e Alex Wilson, mi sono ricordato, mentre, e poi ci sono per tutte e due le case, metà dei tre concorrenti doppi, che sono, da questo lato, appunto, Leila Brown e, dall'altra parte, Danny Brown, di qui abbiamo Valentina Colombo e, dall'altra parte, abbiamo Vincenzo Galli, e poi abbiamo Jasmine Black e, dall'altra parte, abbiamo David Black. Si inizia con le nomination, i ragazzi dovranno votare un nome tra gli altri quattro concorrenti che ci sono in casa e andranno in nomination le due persone più votate. Se, ovviamente, dovesse andare uno dei concorrenti doppi, anche dall'altra parte andrebbe in nomination, ma i ragazzi, dall'altro lato, non lo saprebbero. Farebbero comunque le nomination normali. Alla fine vedremo quanti concorrenti andranno in nomination e poi vi spiego perché. Il primo ad andare nel confessionale è Darren Badoe. Lui, con calma, con calma, sta arrivando, voglio dire, abbastanza lontano. Vediamo subito a chi andrebbe a nominare. Il suo voto va sicuramente per Leila Brown perché con Valentina ha un po' di più, mi sembra, di rapporto. Jasmine è la sua amica ed Enrico anche vanno abbastanza d'accordo. Quindi il suo voto va per Leila Brown. Torniamo in casa. Andiamo con Jasmine Black. Vediamo lei chi vota. Tra l'altro Jasmine si è cambiata, non si sa perché, anche Enrico, ma va bene. facendo vari passaggi da una casa all'altra. Lei vota Valentina Colombo, sicuramente Darren è il suo migliore amico, e poi Leila e dopo ancora Enrico. Quindi un voto per Valentina Colombo. Andiamo proprio con Valentina Colombo nel confessionale. Vediamo lei chi vota. Tra l'altro molto bellina lei. Ragazzi, tra l'altro vi chiedo scusa se sono un po' moscio nel parlare, ma sono andato al dentista stamattina e quindi sono completamente rintronato, ma volevo appunto registrare. Ovviamente, come potete vedere, il suo voto anche lei vota per Leila Brown. Ed è proprio Leila Brown a votare. Vediamo un po' chi nomina. Penso che ricambierà il voto di Valentina. Vediamo subito. Lei tra l'altro con la treccia rosa sta da Dio. Sicuramente non voterà Enrico. Potrebbe ricambiare il voto di Darren, ma ricambia sicuramente il voto di Valentina. quindi è abbastanza decisivo il nostro Enrico che vota senza ombra di dubbio Valentina. Quindi, ragazzi, i due nominati di questa casa sono Valentina e Leila Brown. Quindi, ovviamente, Danny Brown e Vincenzo Galli dall'altro lato sono già in nomination. Ma andiamo a vedere nell'altra casa, invece, chi nominano. Quindi, ovviamente, se voteranno per Vincenzo Galli sarà un voto, diciamo, perso perché è già in nomination. Andiamo subito nell'altra casa. Ed eccoci tornati anche in questa casa. Andiamo avanti con le nomination. Tra l'altro, io mi sono accorto che Hayaditi è l'unica concorrente singola donna rimasta perché le altre tre donne sono legate come concorrenti doppi. Quindi, assolutamente, un grande complimentone ad Hai perché, appunto, è l'ultima donna rimasta all'interno della casa diciamo, come concorrente singola. Quindi, grande, grande complimenti. Allora, andiamo subito con le nomination. Il primo ad andare nel confessionale è Vincenzo Galli. Vediamo chi nominerà lui. Tra l'altro, Vincenzo dovrebbe essere già in nomination con, appunto, Valentina Colombo. Anzi, direi quasi sicuramente. Vediamo il voto di Vincenzo Galli. Casa. Ovviamente c'è una persona che è un po' sgradita che è Alex, quindi lui rinomina assolutamente Alex Wilson. Quindi Alex è in nomination. Scusate, è stato votato, non è in nomination. Seconda persona che va nel confessionale è proprio Alex Wilson che ha appena passato la nomination contro 8 con una grandissima anche percentuale quindi concorrente abbastanza forte personalità abbastanza definita e ovviamente, diciamo, che contraccambia il voto quindi per Vincenzo che comunque, diciamo, un voto un po' a vuoto perché Vincenzo Galli e Valentina Colombo sono già in nomination. Ad andare adesso nel confessionale è proprio l'ultimo concorrente donna rimasto l'ultimo concorrente donna singolo perché ci sono le altre tre appunto legate alle loro dolci metà. E vediamo chi nomina Hai Aditi. Nomina anche lei Alex è l'unico con cui non ha un buon rapporto quindi nominato anche da parte sua Alex. Andiamo con Danny Brown anche lui già in nomination. per colpa, diciamo, un po' della sorella che si è fatta nominare perché qui ancora non l'ha nominato nessuno quindi Danny Brown, a differenza della sorella è abbastanza amato. Vediamo chi vota anche lui vota per Alex Wilson quindi ripropongono la stessa nomination. Secondo me c'è stato un complotto tra i ragazzi però non sanno che effettivamente andranno più persone in nomination. vediamo David Black che di regola non dovrebbe votare Alex Wilson dato che sono molto amici e che Alex l'ha già salvato se dovesse nominarlo è un po' Allora la sua nomination appunto infatti va per Vincenzo Galli il, diciamo, colui che è proprio contro Alex Wilson quindi torna qui e andiamo a comunicare sia a voi che ai ragazzi i nominati di questa settimana. Allora da entrambe le parti hanno nominato Vincenzo Galli e Valentina Colombo quindi con 5 voti sicuramente loro sono i primi nominati. Poi in nomination ci vanno anche con 2 voti Danny Brown e Leila Brown quindi secondo concorrente doppio e infine nominato di questa casa con 3 voti va in nomination nuovamente Alex Wilson quindi è di nuovo in nomination Alex Wilson. Ragazzi sono 3 concorrenti in nomination su 7 e vi dico anche che dato che la settimana prossima sarà la semifinale la settimana prossima la prossima puntata io vado sempre come se fosse veramente il programma sarà la semifinale voi dovrete votare 2 cose 1 chi volete eliminare da questa nomination e sono in 3 e vi dico subito che da questa nomination ne verranno eliminati 2 quindi su 3 solo 1 si salverà e sarete voi a decidere chi dovrete salvare oltretutto la persona il concorrente anzi perché potrebbe anche salvarsi un concorrente doppio che verrà salvata da voi da questa nomination sarà il primo concorrente finalista di questa edizione e poi altro voto molto importante ritorna il vostro preferito perché è la persona più votata da voi come preferito quindi dovete votare fra tutti e 7 i concorrenti sempre sulla mia pagina facebook nella quale vi chiedo anche di mettere magari un like o comunque di condividerla di fare quello che volete come al solito potrete indicare tra questi 7 concorrenti chi volete vedere in finale perché il più votato se non ci saranno pari meriti il più votato sarà il secondo finalista di questa edizione vi dico già che settimana prossima su 7 2 dalla nomination e poi un'altra eliminazione ci saranno quindi 3 eliminazioni e andremo a decidere i 4 finalisti di questa seconda edizione del GF Daniele Danzo quindi settimana prossima mattanza di concorrenti tante eliminazioni io ora vado a rimescolare anche un po' le case per l'ultima volta direi anche perché dalla settimana l'ultima settimana la passeranno tutti insieme i ragazzi e niente vi faccio vedere anche poi come li divido quindi due secondi e vi faccio vedere come sono divisi nuovamente nelle case eccoci qua allora ecco qui come sono divise le case allora ho deciso di in una parte dovevano essercene per forza 4 nell'altra 3 concorrenti ho riunito i concorrenti doppi che ah qui ho sbagliato vedete dovevo fare così ho riunito praticamente i concorrenti doppi che sono in nomination quindi loro due appunto Vincenzo Galli e Valentina Colombo e e no ho risbagliato ah no bugia e Danny Brown con Leila Brown in più in nomination c'è Alex Wilson che appunto va nella casa dove sono in 4 concorrenti anche qui sono in 4 ho fatto ora bene la la divisione perché appunto David Black e Jasmine Black che sono l'unico concorrente doppio non andato in nomination rimangono divisi un'ulteriore settimana ho voluto mettere due donne per casa quindi ci siamo alla grande e ho voluto anche riunire la coppia Jasmine Black e Danny Brown che stanno insieme ma che non stavano nella stessa casa da un po' di tempo ho diviso invece Leila Brown e Enrico Marcelli la nuova praticamente coppia ho diviso anche gli amici Alex Wilson e David Black e anche Darren Badaw da appunto no Darren Badaw invece con Jasmine sono diciamo andati dall'altra parte quindi loro tre stavano in casa insieme con loro due e invece dall'altra parte c'erano appunto loro due e loro tre che stavano in casa insieme mi sembra una divisione equa e niente ragazzi come al solito con questa schermata vi lascio a questa puntata che è stata per me un po' pesantuccia registrarla dato il mio dolore ai denti del dentista di quest'oggi però era necessario che registrassi e che diciamo andiamo verso la fine di questa seconda edizione del GF2 Daniele Danzu che comunque mantiene il suo discreto successo per quanto riguarda invece il gameplay sono sempre più convinto di abbandonarlo il gameplay quello attuale perché appunto non ha molti seguaci e quindi sono abbastanza sincero con me stesso ma soprattutto con voi quindi inutile diciamo andare avanti a meno che non ci siano veramente particolari richieste quindi non lo so vedremo un po' per ora andiamo avanti con il GF2 Daniele Danzu e poi vi dico già che da quando finirà il GF2 Daniele Danzu ho un'idea molto carina per far iniziare una cosa molto bellina che secondo me vi piacerà e vi coinvolgerà molto anche se da esterni niente ragazzi io volevo salutare tutti i gruppi che accettano diciamo i miei post su appunto il mio canale del mio canale ringraziare tutte le persone che ultimamente si sono iscritte al canale siamo diventati 170 più o meno iscritto più iscritto meno perché quelli poi si modificano in base alle giornate e anche tutti coloro che hanno messo mi piace alla pagina consigliate pagina e canale ai vostri amici o se sapete che qualcuno piace The Sims 4 e mi sono anche accorto di una cosa tutti gli altri youtuber fanno video su altri anche su altri giochi quindi hanno un pubblico molto più vasto io ancora non ho scelto e deciso di fare video su altri giochi uno perché sinceramente a me come giochi piace principalmente quasi unicamente The Sims da quando ero piccolo non sono mai stato un fanatico di videogame se non dei pokemon sul gameboy e penso che quello piaccia a tutti coloro che piace The Sims e quindi mi posso ritenere veramente contento se ho 170 iscritti facendo un canale solo ed esclusivamente di The Sims 4 tra l'altro neanche delle altre versioni quindi niente era giusto un'osservazione che mi andava di fare senza giustificazioni e senza se e ma ma è una constatazione positiva vi ringrazio tutti ragazzi un bacione dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti